Ecco un trucco per risparmiare sempre sul Playstation Store, anche sui prodotti già scontati. Apri Telegram e iscriviti al canale Affari da Nerd. Cerca gli ultimi codici sconto e neiba pubblicati con il tag PSN Card. Copia il codice sconto, clicca sul link e inseriscilo sul sito cliccando su questa freccina gialla e poi su Hai un codice sconto. Verranno aggiunte delle piccole commissioni per il pagamento sicuro con Paypal, ma il risparmio sarà notevole. Riceverai il codice della ricarica PSN immediatamente via email. Basta inserirlo nel proprio account Playstation ed il gioco è fatto. In questo modo è possibile acquistare ricariche PSN ad un prezzo scontato in media del 25%. Questo credito può essere utilizzato anche sui videogiochi già in offerta per un risparmio extra. I codici sconto e neiba durano pochi giorni, ma su Affari da Nerd ne vengono pubblicati di nuovi ogni mese. Iscriviti gratis per non perderteli. Qu marcatori che beschguez interpretare ricarica PSN permettano di appara54